13 maggio ANAS Lazio-Roma organizza un evento speciale, l'albero della vita, pensato appositamente per voi. Con noi ci sarà Nina. Ciao Nina, di cosa ci mostrerai? Vi mostrerò di trattamento e come mantenere la pelle giovane. E Ambra, ciao Ambra, di cosa ci parlerai? Parleremo dell'importanza dell'alimentazione consapevole e della fitoalimurgia. E inoltre avremo un ospite speciale direttamente dalla Puglia, che vi parlerà dell'importanza dello sport e l'ascolto del nostro organismo. Donne, venite struccate, prenotatevi, 50 posti disponibili. Ah, a proposito, alla fine ci sarà un rinfresco per tutti i partecipanti. Mi raccomando, ci vediamo 13 maggio, ore 16.30, via Bembo 30, Roma. Ciao! Ciao!